La sesta è una sezione modello, non si preoccupi, ladri, spacciatori, rapinatori di farmacie, poca roba. Tutta gente molto a posto, vedrà. Ah, e c'è anche un'uxoricida. Direttore, buongiorno. Signorini, quelli. Non me li faccia sentire troppo vivi. Eh, 4, 5, 6, 7... Sorbonaria? Questa è la cosa, la regista? Sì. Vi ho visto in cortile, sa? E mi è venuta un'idea per lo spettacolo. Una passione di Cristo interpretata dai detenuti. Che ne dice? E un Ave Maria non farebbe male neanche a lei, sa? Io non prego. Certo, lei fa il teatro. Però dobbiamo assignare i ruoli. Consio Pilato. Maria Maddalena. Valentina Cieli. E Giuda? Chi vuol fare il Giuda? Se non collabora, non me lo faccia sapere. Perché nessuno vuole ritornare ai raggi. Ho capito che cos'è che non vanno in Gesù del Vangelo, sa? Che lui non vuole salvare questo mondo. Ma quello suo, quello perfetto che nessuno ha mai visto. Non è l'arte che ci salva, è la fede. La religione ci rende schiavi, l'arte ci libera. La fede. La poesia. L'obbedienza. La libertà. Va da retro Satana. Donini, ma che sei messo a fare l'esorcista? Adesso so cosa faremo. Lo faremo senza la croce. Io lo confesso sono un bandito fuori dall'ordine costituito. Mi hanno beccato giù alla dogana con sette chili di marijuana. Come Gesù mi hanno condannato, non avevamo un buon avvocato. Lui ha battito sopra il calvario e io rinciuso un penitenziario. Noi siamo i cattivi, siamo i malvagi, bestie schifose, i cani randaggi. Si cene l'inverno ed estate si suda. Siamo qui dentro per colpa di Giuda. Maria Matalena.